Senti Raffaella, io ti devo dire veramente grazie per essere venuta al mio invito. No, sei emozionante, capito? Perché non pensavo che fosse così bella, così splendente, così luminosa. Poi c'hai questi capelli bel dorati, poi c'hai due occhi bellissimi, che poi il colore è cervone, le strisce verdi e le punti di giallo, che si vede, ecco, belli deve essere, sì. Sei, ma tu che lavoro fai? Io sono estetista, guarda. Wow, bellissimo, si vede, veramente bellissime queste mani. Tu invece di che ti occupi? Allora, allora, io sono principe del foro. Wow, quindi un grande avvocato? No, commista. Capito? È come, in foro. Sempre in foro, insomma. Sì, guarda lì, sempre, i motori che passate adesso, la doncia è venuta a Roblesque, che giù, fora, non farà la cosa, capito? Vabbè, vabbè, comunque, assalto, assalto. Sì, diciamo. Vabbè, passate io! Sì. Grazie a tutti.